Quello cercava di fare il furbo in realtà. Non scambiare i trucchi per furbizia, inezie ed espedienti. Ehi, è il Ramingo! Cos'è sta? Vieni, combattolo! Provatelo, blu! Quando E-Armor non tornò dallo scontro con il Re Stregone, la notizia si diffuse a macchia d'olio in tutta Gondor. Le truppe del Re Stregone si stavano raggruppando, conquistando rapidamente terre che un tempo erano state di E-Armor. Alcune regioni capitolarono così rapidamente che le lettere inviate dal primo sovrintendente di Gondor, Marvill, non giunsero mai a destinazione. Da generazioni teniamo quelle lettere non lette qui, dove rimarranno sigillate per sempre. Nessuno di quei gondoriani verrà mai a riprendersele, ma le conserviamo per onorare la loro memoria. Vi chiedo cosa accadrà alle ultime lettere che ho spedito per conto di mio padre. Non sei tentato da leggere le lettere. Non serve. Conosco il cuore del mio popolo. So cosa dicono. ? Un po' di costruiaci. Grazie a tutti. 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 Ramingo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Continuiamo. Grazie a tutti. 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 Ramingo. ... 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